Dottor, questo è il terzo piano. Quello di prima è il secondo. L'abito è bella vista. Lo conoscete? E lo dovete conoscere. Un uomo eccezionale, dottor. Professore di filosofia. Però adesso sta in pensione. Quando parla bella vista, dottor, è Cassazione. È sposata con la signora Maria. Una bella femmina. Ma difficile, dottor, difficile di carattere. E tengono una figlia, Patrizia. Femmina pure lei. In realtà Patrizia si chiamerebbe Aspasia. Aspasia, la femmina di Perica. Antico professore di latino. Di certe cose vi dico, ma voi ce le sapete. Il nome Aspasia non lo piaceva a Patrizia. È deciso, quindi, di chiamarsi Patrizia. Il professore è proprietario dell'appartamento in cui vive. Lui tiene pure dei terreni. Annocele. Però è inferiore. Sì, è tenere, è tenere, dottor, però è come se non li avesse. E chi si tiempa? I tempi che corrono, il professore che fa? Vanno c'era e dice, contadini, si terra sui mie. No. E quindi, al massimo, riesce a scippare un paio di chili di pomerolo all'anno.